e l'ho anche visto è lo anche va la promo macinato dentro petente o ora quasi quasi lo porto fino a casa no non penso cioè ma neanche neanche se glielo infili giusto non riesci è proprio incastrato no basta no no non gli ha fatto niente è proprio sfilato dentro di preciso valordo